La sindaca Cecilia Francese ha messo un'ordinanza di messa in sicurezza a carico dei proprietari dei casoni d'Oria situati in località Santa Lucia. Alla base del provvedimento le numerose problematiche segnalate a seguito del sopralluogo effettuato dalla Polizia Municipale, a cominciare dallo stato di degrado avanzato degli immobili e delle aree circostanti. A ciò si aggiungono i rifiuti di varia natura presenti sul posto, tutti riconducibili ad attività edili eseguite dalla ditta proprietaria edivi abbandonati. La richiesta del primo cittadino è di rimuovere immediatamente i pericoli per la pubblica incolumità e di provvedere ad avviare la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti.